Continuano a moltiplicarsi a Pesaro le iniziative di solidarietà in favore della popolazione ucraina da oltre una settimana sotto i bombardamenti russi. Una crisi umanitaria, un dramma davvero toccante anche per la sensibilità degli studenti della città e qui al liceo Mamiani è partita una iniziativa davvero lodevole. Un euro a studente in favore dell'Ucraina, un piccolo gesto, un piccolissimo esborso economico ma che può fare una grande differenza perché questa è la scuola numero alla mano più grande della città, circa 2200 studenti e va da sé che dunque arriva un grande contributo dal liceo Mamiani in questa operazione coordinata dalla Onlus Gulliver e prodotta verso l'Ucraina da parte della Caritas diocesana. È un'iniziativa che è partita da studenti, in particolare il rappresentante dell'istituto, che ringrazio, appoggiata da alcuni professori che hanno collaborato all'aspetto organizzativo. Poi noi abbiamo come scuola già una convenzione con Lollos Gulliver e con Andrea Boccanera che è il suo presidente e quindi ci ha offerto collaborazione per gestire questa situazione. I ragazzi raccoglieranno un euro a testa, i nostri studenti sono molti, sono circa 2150 e anche i professori avranno modo se lo desiderano di contribuire. Tutto il ricavato di questa raccolta sarà inviato alla Caritas. È importante anche che i ragazzi si attivino, che si informino. Per esempio oggi loro molte classi hanno un incontro con il professor Giannelli dell'Università di Urbino per parlare degli aspetti sia attuali che storici della situazione ucraina. Loro questa situazione la vivono con molta angoscia, con molta ansia e hanno bisogno anche di essere, da una parte di dare il loro contributo, ma anche di essere informati, di capire il più possibile qual è la situazione. La scuola si sta attivando per fare anche questo. Solidarietà da parte del liceo Mamiani che si unisce al canale diretto costruito dalla Caritas per il trasferimento di fondi e alla organizzazione della Onlus Gulliver che invita ad allargare il tiro oltre ai Mamiani a tutta la città e alla sua popolazione studentesca. Noi ringraziamo il tutore Lisotti e tutti i studenti di Mamiani per questa cosa bellissima, perché ripeto, un euro a studente è una piccola cosa. Con i numeri di Mamiani, i numeri dei genitori, dei docenti, riusciremo sicuramente a fare una bellissima raccolta. La raccolta, ripeto, avverrà oggi, sabato, domenica o lunedì mattina. È aperta a chiunque vuole contribuire. Il mio invito è quello a scuole, asili, semplici classi, genitori, di auto-organizzarsi e partecipare a questa iniziativa del Mamiani, perché è una cosa importante e che serve. In questo momento la raccolta fondi ha un'efficacia diversa rispetto alle iniziative pur meritevoli della raccolta di materiali. Sì, tutti i canali ufficiali che arrivano attraverso Caritas, quindi la comunicazione viene fatta dalla Caritas, dagli organi istituzionali, dice di non inviare pacchi, alimenti o altro. Alla popolazione, alle Caritas Limitrofe e all'Ucraina servono finanziamenti. Quindi il nostro invito è quello di partecipare alla raccolta di Mamiani. Un euro per noi è poco, tutti insieme possiamo fare una grande cosa.